Siamo sul posto Bene, sbrigatevi, ho perso il contatto con Yumi Ho paura che si sia imbattuta nel samurai Non c'è tempo da perdere, andiamo di là A parte questa e altre buone notizie Come no, Talia deve avermi visto fare il codice d'accesso al laboratorio E ora i presi della polizia sono dietro la porta Oh, e Xana vi ha già mandato dei mostri Due blocchi State attenti al loro raggio ghiacciato Uccidi all'istante Let's go No! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.